Fernando Prodomo, Presidente della sezione Famiglia del Tribunale Civile di Firenze. Qual è l'utilizzo dello strumento della CTU in ambito giudiziario? La consulenza tecnica d'ufficio non viene utilizzata in tutte le procedure relative alla famiglia e ai minori, ma in quelle che presentano una maggiore complessità, una maggiore difficoltà nella soluzione del caso. Quindi non è l'unico mezzo istruttorio, è uno dei mezzi istruttori, naturalmente è uno dei mezzi istruttori più completi a disposizione del giudice per arrivare alla migliore decisione possibile nell'interesse del minore e della famiglia. È garanzia dunque del minore e in generale delle parti? Naturalmente, se il quesito impostato dal giudice è ben impostato, se il consulente tecnico riesce a lavorare bene, se è supportato anche dai consulenti delle parti, che sono altri psicologi come lui normalmente, in alcuni casi sono psichiatri, sia il CTU che il CTP, se i difensori fanno bene la loro parte, il risultato è sicuramente di grande aiuto per il Tribunale e per il giudice.